Con 8 voti favorevoli, 6 contrari, 2 astensioni e passato in Consiglio Comunale il piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020. Tanto rumore per nulla. Il tasto dolente della discussione si è confermato il polo unico scolastico dal momento che i consiglieri comunali di maggioranza, Andrea Ramunno e Deborah D'Amico, passati e non iscritti, hanno chiesto un impegno all'assessore comunale Nicola Angelucci di preservare le strutture scolastiche esistenti, ponendo una serie di punti di vista diversi, circa la viabilità, il modello della didattica, lo spopolamento delle frazioni, il mantenimento del comodato d'uso gratuito della scuola regina Margherita. Nessuno vuole mandare a casa l'amministrazione, ha detto Ramunno, ma le cose devono cambiare per poi astenersi. Non è bastato l'impegno perché ho chiesto un impegno formale, quindi perché la pubblica amministrazione parla per atti. Quando ci sarà un atto che dimostrerà che le scuole periferiche delle frazioni non vengono penalizzate, in quel caso sarò pronto a votare e sarò il primo a difendere il provvedimento. Però in questo caso non è cambiato nulla rispetto alla Commissione, quindi ho confermato il mio voto d'astenzione pur restando favorevole al personale scolastico, quindi su questo non ci piove. A votare a favore invece la consigliera Deborah D'Amico, dopo aver esposto punto per punto le sue rimostranze, le rassicurazioni in ogni caso non sono state messe nero su bianco. Diciamo che le osservazioni oggi che il Consiglio ha posto praticamente in discussione, che quindi avendo una competenza piena come quella dell'indirizzo, sicuramente sono tutti argomenti da tenere in stretta considerazione. Quindi adesso nei prossimi giorni analizzeremo questi argomenti che sono stati messi a sostegno di una rivisitazione del plesso unico e vedremo praticamente con fossa come dobbiamo comportarci per la salvaguardia di quelle scuole che sono state annunciate sia delle frazioni che del reggino Margherita oggi in Consiglio Comunale. Il piano triennale delle opere pubbliche prevede interventi per complessivi 12.876.000 euro. L'opera più rilevante è quella del nuovo plesso scolastico, 4.064.000 euro, per aggruppare tutti gli istituti delle primarie e dell'infanzia. Gli altri interventi per il 2018 riguarderanno lavori di manutenzione, 265.000, nuova scuola dell'infanzia a Bagnaturo, edeguamento sismico dell'Asilo Unito Isola Felice, 475.000, miglioramento sismico dell'Iceo Classico, 4.221.000, riqualificazione del centro storico, 150.000, l'area di via Turati, 830.000 euro. In aula però non ci sono tecnici e revisori dei conti, tanto è bastato per accendere la polemica.